La mia vita è spettacolare E questa dicha è la pressione Come ti chiami? Victoria Girolamo, ti abbiamo preparato la minestra. Non è forse questa la felicità? Non è quello che volevate anche voi? Niente ti sei innamorato di me? Alla mia domanda voglio sentire solo una risposta. Ed è risaputo che detesto la sorpresa. Per ti entrare è stato l'errore più grande che ho commesso nella mia vita. Tu non sei niente di me. In fondo io nella vita cercavo semplicemente l'imprevisto. Alla prossima Alla prossima Alla prossima